ciao buongiorno come state tutto bene a ci ritroviamo insieme per darci appuntamento a domani e si in questo martedì un altro appuntamento dedicato come sempre alla musica e ai vinili la scorsa settimana ci siamo lasciati dicendo che avremmo raccontato un po quella che era la storia magari di qualche vinile legato al naturismo insomma legato anche a una forma un po più artistica legato anche quello che era il sesso e tra le varie copertine che tra l'altro anche appeso ho trovato questa di vinicio capostela e modi con questa bellissima immagine di questa donna in realtà poi mi sono scervellata di cercare di capire sicuramente i grandi artisti hanno parlato di musica ma anche come si dice di di natura e di naturismo soprattutto quando se andiamo indietro negli anni e parliamo anche dell'epoca di wood stock in cui la libertà era tutto sotto tutte le forme di vita e non solo ebbene allora vi chiedo di mandare una mail a imhlib1 che c'è la libero punto it di oggi se avete voglia se vi viene in mente magari qualcosa che invece possiamo diciamo così raccontarci o qualche copertina di disco che appunto va a raccontare un po quello che sarà il tema di domani per cui vi aspetto come sempre qui domani a partire dalle ore 9 e quindi scervellatevi scervellatevi e aiutate a trovare qualcosa insomma di diciamo così di particolare e di stuzzicante che può così farci passare un'oretta insieme come sempre qui ogni martedì dedicato al vinile è dedicato alla musica un abbraccio un bacio vi aspetto domani come sempre alle ore 9 ciao